Per la rubrica, i gesti più antisportivi di sempre, oggi ricorderemo il gesto di Fabrizio Cacciatore durante Chievo Juventus, nella stagione 2017-2018. E il sessantunesimo minuto quando l'arbitro si avvede di Fabrizio Cacciatore a terra dopo uno scontro di gioco. Il direttore di gara autorizza l'entrata dei sanitari, ma il giocatore si rialza velocemente e gli stessi tornano indietro. A quel punto, come da regolamento, Fabrizio Cacciatore è invitato dall'arbitro ad uscire dal campo, per poi essere autorizzato a rientrare. Il giocatore Clivense non la prende bene, mentre si avvia a bordo campo, per due volte, mimera il gesto delle manette divenuto famoso grazie a Osè Mourinho che lo fece in Inter Sampdoria anni prima. L'arbitro Maresca, accortosi di quanto accaduto, non potrà fare altro che espellere il giocatore. Supportate il nostro lavoro con un mi piace al video e l'iscrizione al canale. Grazie.